E ci presenti una bellissima azienda nelle terre di Cosenza, Terra del Gufo, la tua meravigliosa realtà. Ora te lo dico in italiano, poi lo traduco in inglese. Se ci dici un po' di storia, poi passeremo al vino dopo. Ok, siamo con Terra del Gufo, Eugenio è il proprietario. Sì, Terra del Gufo è una piccola azienda artigianale che si trova nelle terre di Cosenza. Le terre di Cosenza sono una denominazione di origine nel nord della Calabria. Terra del Gufo è una piccola azienda artigianale che si trova nelle terre di Cosenza. Abbiamo una piccola azienda che produce vini artigianali fondamentalmente fatti tutti da agricoltura, agricoltura sostenibile, agricoltura biologica, organica, in qualche modo. e produciamo vini per appassionati, per chi non vuole vini ovviamente standardizzati, ma cerca vini fortemente tipicizzati, espressibili del territorio. Ok. Non so se vuoi tradurre. Sì, 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 assolutamente. Eugenio è in terra di Cosenza, nel nord della Calabria. E produce vini artigianale. Per le persone che piace il vini artigianale, tipico vini, autentico vini, da agricoltura biologica. Ok. Qual è il tuo background per diventare vini artigianali? Cosa ti porta a diventare vini artigianali? Ok. Questo è una cosa particolare perché è... Ok. Dici. Dici. Fondamentalmente la passione per il vino e per l'agricoltura. Perché io ho una storia completamente diversa. Io sono laureato in filosofia. Ho fatto vari mestieri legati alla mia laurea, nel senso che ho insegnato per un po' di tempo. Poi mi sono occupato di neuro-riabilitazione, che è un altro mondo. Però ho sempre mantenuto, diciamo, la passione viva per il vino, per l'agricoltura, per la terra. E ad un certo punto ho pensato che era giunto il momento di cambiare vita. E quindi di trasformare la mia passione in attività lavorativa, in un'attività che dire di impresa è un po' difficile perché si tratta pur sempre di una piccola impresa artigianale a conduzione familiare, ma comunque è tale per cui, diciamo, oggi mi dà da vivere. Io lavoro e vivo oggi e mi mantengo con questa attività. Quindi ho trasformato una passione, diciamo così, in un'attività lavorativa. Ok, quindi questa è una storia, non strana, ma è una storia diversa. L'agricoltura ha un'attività in filosofia. L'agricoltura ha fatto molto diversi cose, molto fuori da l'agricoltura e l'enologia. L'agricoltura è diventata per la passione per il vino e per la terra, che ha accompagnato Eugenio per circa 15 anni. Quando ho deciso di dedicare il suo lavoro completamente in Italia, per la vita, per la vita. Quindi ho trasformato la passione per il vino e per il vino in un lavoro, in un lavoro. e ora ha sempre molto attenzione per l'agricoltura, per la attività fisica, e per la fatica che l'agricoltura ha dato. che ha dato a lui. Quindi, ha trasformato la passione per il lavoro. Quindi, quali vini specifici fatti fatti? E perché sceglie questo tipo di vino che fatti? Eugenio, quali tipi di vino fai? E cosa ti ha portato a scegliere queste tipologie di vino? Io faccio vini prodotti fondamentalmente, nella massima parte vini fatti dal magliocco, che è il vino tipico, il magliocco dolce e l'uva, il vitigno tipico di quest'area della Calabria. Quindi, in questo senso non ho fatto altro che adeguarmi alla storia del luogo e del territorio. Faccio questi vini, tranne un solo vino fatto da vitigno internazionale, che è il Timpamara, che è prodotto da Sirà, e tutti gli altri appunti sono prodotti da magliocco o da altri vitigni autocotoni, vitigni storici. Faccio questi tipi di vino perché mi sembra giusto attenermi alla tradizione, alla storia di un luogo, alla sua vocazione, alla sua tipicità. E quindi, siccome queste sono terre in cui il magliocco si coltiva da moltissimi anni, da secoli e secoli, mi sembra giusto fare i vini con i vitigni di questa zona della Calabria, che sono oltretutto vitigni veramente originali, difficilmente rapportabili ad altri sia sul panorama ovviamente internazionale, ma anche nazionale. E anche nella vostra regione, Giuliani. E appunto. Anche nella vostra regione. Ok, quindi, quindi, ha prodotto red, white, e rosè wines. E tutti i vini sono prodotti da agricoltura con la limitazione dell'invasione 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 in order per preservare l'ambiente dell'ambiente del territorio. E prodotti soprattutto per l'autototone varietà e non accettare solo per il vino che è prodotto con Syrah. Quindi, vogliono produrare wines che sono tipiche di espressione del terroir. Ci hanno bisogno di riferimento al terroir con caratteristiche tipiche molto evidente e molto diverso da altri vini che hanno fatto in altri territori. Anche in Italia e anche in Calabria. Magliocco è una delle varietà principali che produrano il vino che è molto tipico in l'autototone del terroirico senza. in questa area. Quindi, abbiamo capito che hai molto passione sul tuo lavoro e cosa fai magari non è un lavoro per te. E' la parte più difficile del tuo lavoro e magari una parte frustrante del tuo lavoro. Eugenio, abbiamo capito che hai una forte passione per il territorio, per quello che fai più che camarlo come lavoro. Ci sarà qualcosa che fai con più difficoltà o forse ti porta un po' di frustrazione. Immagino. Sì, sì. Perché ovviamente trattandosi di vini artigianali, quindi di vini legati fondamentalmente all'agricoltura e agli andamenti climatici stagionali, non è sempre possibile avere degli standard di anno in anno sempre uguali. E le variabili che entrano in gioco sono tantissime. Puoi avere stagioni cattive, stagioni stagioni difficili, puoi andare incontro facendo appunto dell'agricoltura biologica a problemi di carattere fitosanitario e quindi le variabili da controllare sono diverse. E questo può procurare problemi. Può procurare problemi e può causare anche un minimo di frustrazione, nel senso che il prodotto che tu ottieni non è sempre quello che avresti voluto avere. Però questo è anche, credo, una caratteristica positiva di questi tipi di vini. Cioè il fatto che questi vini siano diversi di anno in anno. Il che implica che non c'è una procedura standard di produzione, che c'è una artigianalità e non una industrializzazione. I processi sono processi legati all'andamento diciamo climatico stagionale. Ok, quindi come Eugenio fa un vino artesanale tutti i vini che sono artesanali hanno un grande influenzamento da tantissime variabili. che non si controlla la climatica e philopatologia e la protezione del vini che possono essere attaccato da un disastro o altre cose. Quindi l'altro parte mi piace che ogni anno il vino è diverso perché è artesanale quindi non controla il clima, il vino è diverso ogni anno. quindi non inizia il vino e tutto tutto. Questo mi viene domande se la fermentazione la cambi come tempo negli anni e se il blend poi le cambi è come la fermentazione può cambiare ogni anno e se si è cambiare ogni anno la varietà allora i vini sono più o meno fatti in maniera uniforme voglio dire nel senso che i metodi di produzione sono più o meno gli stessi i tempi di macerazione sono più o meno rispettati e le percentuali degli ovaggi sono rispettati questo ovviamente per dare identità ai vini naturalmente anche su questo possono incidere i fattori stagionali quindi è possibile apportare delle modifiche in base alle caratteristiche delle uve perché ovviamente di anno in anno noi possiamo avere un profilo polifenolico del vino diverso possiamo avere un'estrazione migliore un'estrazione peggiore possiamo avere una ricchezza di estratti maggiori o minori e quindi possono in funzione di queste variabili cambiare i tempi di di fermentazione i tempi di macerazione e queste cose qui ma le percentuali degli ovaggi invece si mantengono costanti per ogni tipo di vino in modo da dare comunque un'identità varietale ai vini un'identità che deriva dalle uve un'identità che non consente a chi li consuma di riconoscerli al di laden o non ok Eugenio ha detto che la fermentazione dipende del sugo e del tipo di vino dipende del servizio che ha il periodo quindi magari può giocare con macerazione ma ma la fermentazione ma dipende molto profilo profilo sensoriale sensoriale profilo l'amount di tannini il zucchero e molte altre cose quindi la macerazione la fermentazione può cambiare ogni anno come macerazione ma il blend è quasi lo stesso per dare vino e lasciare le caratteristiche profili molto vicine anno per anno quindi il vino deve essere riconosciato questo è bellissimo grazie abbiamo detto che le uve sono tutte la maggior parte sono tolte a parte una prima di assaggiarlo che cosa che cosa possiamo dire cosa può cosa possiamo dire che il tuo vino è unico perché lo possiamo definire unico è chiaro che tutti i vini sono abbastanza 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 unici però cosa possiamo dire del tuo so cosa rende la terra del gufo unica non lo so i vini sono unici perché se sono unici perché provengono obiettivamente da lo ripeto da varietà e da uvaggi assolutamente inconsueti non solo per appunto per il panorama nazionale internazionale ma anche per il panorama regionale e questo li rende abbastanza abbastanza diversi da quelli che è possibile ottenere e sono anche diciamo dei vini che cercano tra di loro cioè all'interno dei vini che produco io di essere uno diverso dall'altro cioè di essere dei vini caratterizzati dei vini che presentano delle caratteristiche diverse per cui il caolos è diverso dal portapiano il portapiano è diverso dal timpamara e così anche diciamo l'alisso e il chiaroscuro cioè il rosato quindi avere dei vini che siano molto 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 diversi gli uni dagli altri con caratteristiche non non omologate non uniformi non standard non standardizzati ok ok quindi ha detto è così difficile di rispondere questa domanda ha detto che i vini che vengono dalla terra del Gufo sono sicuramente in come come da una molto piccola zona che non può compare con altre area delle area in Italia e quindi indigenza varietà quindi autochtonale grape tutti vini sono molto diversi anche tutti vini della terra del Gufo quindi autochtonale da un'area piccola un'area artesanale che rende ogni label unico unico ok un'altra precisazione è questa ciò che li rende forse abbastanza non dico unici ma particolari è il fatto che sono prodotti in Calabria quando noi pensiamo alla Calabria pensiamo a zone vitivicole molto 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 calde molto tipiche di zone appunto mediterranea di zone molto calde temperature invece noi siamo in una zona interna della Calabria zona appenninica zona collinare alta collina e quindi sono dei vini che a confronto con moltissimi vini del sud della stessa Calabria presentano delle caratteristiche diverse più simili a quelle magari di vini del nord prodotti in zone comunque più fredde per il caos magari fatta esclusione per il caos ok quindi un'altra cosa che vuoi dire è quando pensiamo di Calabria pensiamo del mediterraneo che è caldo caldo ma Terre di Cosenza è in area ed comune sono più 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 la Calabria, la costa. Non si può compare a un'altra area del nord Italia, perché è più caldera. Ma questo è un particolare climat, che non è warm, non è così caldo. Quindi è un particolare climat, particolare temperature. E questo può aiutare per l'acidità e l'acidità. Ti aiuta anche a cercare di avere un po' di più acidità nel vino, nelle uve? Sì, naturalmente sì. Questa è una caratteristica che si riverbera nei contenuti di acidità dei vini, che hanno spesso un'acidità un po' più alta. Ok, questa è una riflessione per l'acidità del vino. Quindi, quali caratteristiche credi che avrai rispettato nel vino che viene dal prossimo cibo? Quali sono le caratteristiche che ti aspetti nel vino della vendemmia che viene se o se hai iniziato a vendemmiare, non mi immagino di no, della vendemmia che stai facendo? Per ora l'andamento climatico, l'andamento stagionale è positivo. Le uve sono integre, sono belle, sono sane, non presentano particolari problemi sanitari. È un'annata che all'inizio è stata un po' piovosa, e adesso, diciamo, si è messa molto sul caldo, ma promette molto bene. Io credo che avremo... Se continua così, perché naturalmente sono gli ultimi mesi, quelli decisivi, avremo delle ottime annate, dei bevini. Penso che ansia in questo periodo, prima della vendemmia. ora le grazie sono bellissime, molto integrante, e il vento è molto bello. È bellissimo, è almeno perfetto. Quindi, aveva un periodo di rai, ora è freddo, ma non è freddo. Quindi aspettava un vino abbastanza buono e si tratta i piedi perché questo è l'ultimo periodo quindi è uno dei periodi più imparati o magari un periodo importante dell'anno che abbiamo bisogno di sfruttare. Quando inizierai più o meno, fine settembre? Metà settembre, metà settembre e poi fino a fine ottobre. Ok, quindi a fine ottobre. Inizierà di sfruttare da metà settembre fino a fine ottobre. Magliocco sarà l'ultimo. Sì, magliocco per la vinificazione in rosso. Per la vinificazione in rosato un po' prima. Ok, quindi il magliocco sarà l'ultimo per il vino rosso e nel settembre per il vino rosso. Il tuo vino non è certificato vegano. In ogni modo possiamo dire che il tuo vino è vegano. Sì, fondamentalmente perché per un primo elemento è che l'agricoltura è un'agricoltura biologica e non usiamo concimi di origine chimica. Quindi la concimazione è fatta con la tecnica del sovescio fondamentalmente. inerbimento e interramento delle leguminose in primavera in oltrata quando sono fiorite. Quindi dal punto di vista dell'agricoltura non c'è uso di concimi di origine chimica. dal punto di vista della vinificazione noi non facciamo chiarifiche con prodotti di origine animale. Quindi non ci sono chiarifiche con albumina oppure con gelatine ma le chiarifiche oppure colla di pesce. i vini non sono chiarificati con prodotti di origine animale. Quindi da questo punto di vista credo che possano essere definiti vegani al cento per cento. Ok, quindi possiamo dire che i Terlico Senza vini sono vegani perché hanno applicato l'organizzazione dell'organizzazione. Quindi si lavorano con la tecnica naturale, come le manure di green. Quindi non usano alcuni prodotti di chimica. Quindi per l'agricoltura per l'agricoltura è questo. e poi non usano alcuni prodotti di origine animale. Per l'agricoltura per l'agricoltura per l'agricoltura. Quindi questa è l'altra parte. Quindi possiamo dire che sono vegani. Vino per l'agricoltura per questo motivo. Quindi magari è il momento di smettere il vino. Io sono freddo. Penso che è tempo di assaggiarlo perché sono un po' Siete, sì sì. Io lo prendo che c'è il rosato in frigo. Ok. Siete. 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 Ecco qui. Chiaroscuro. 2019. Ho già aperto il vino. Questo è Magliocco. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Oh, è una bellissima colorazione. È troppo presto per te, Francesca. Come si, mi piace. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Magliocco dolce. Non ho testato mai in novembre. È un tempo abbastanza lungo. È un tempo abbastanza lungo. Ciao a tutti. Magliocco dolce. È una bella flora margossa, come Rosè, i petali di rosa. Wow! Il vino è molto libero, fluido e con una molto diversa rinchiabilità. E mi piace questo sapere di Atertaste. Non so se Eugenio hai compreso, ho detto che è molto privace, ha questa flutità in bocca ed ha una bevibilità pazzesca. E il finale, che c'è piacevolmente sapido, è personalmente una delle caratteristiche che a me piace tanto. Hai rinchiato recentemente, Francesca? Non ho, hanno appena arrivato, quindi lascio sottolineare. Ok. È così bello! È così bello! Ho parlato con Eugenio perché della parola, quindi suggerisce una tipica di Terre di Cosenza che sono le patate e i peperoni. Come avete detto si chiamavano le patate in questo caso? Un bacchiuse. Un bacchiuse. Un bacchiuse. Un bacchiuse, sì. Un bacchiuse è anche difficile per me dire. Un bacchiuse. Com'è il piatto più o meno Eugenio? Sono... Le verdure messe in padella a soffringere. un padella di ferro. Ripeto quello che già ti ho accennato. Sì, sì, sì. La cucina calabrese è povera ed è una cucina fondamentalmente fatta con materie prime semplici. ed è una cucina non particolarmente elaborata, non particolarmente costruita. Quindi questi sono piatti contadini, piatti poveri. E questo è un tipico piatto fatto per... come contorno, come accompagnamento. Sono delle... dei peperoni e delle patate messe a soffriggere in una padella di ferro di solito, così come si usava nelle cucine di una volta, con un dito di olio di extravergine di oliva, ovviamente. E... sono messe in padella, sono fatte... soffriggere, quasi stufare. E sono imbacchiuse le patate perché sono attaccate l'una all'altra. Ok. Cioè, non sono... non sono staccate come le patate fritte, come noi... quando noi pensiamo alla patate fritte, ma sono delle... in padella è questo. Perciò, bacchiusa significa attaccate. Ah, ok. Incollate, quasi. Incollate. Eugenio ha detto che Calabria ha un povero, molto semplice, e queste piatti hanno patate bacchiuse, e il peperone, che è il peperone, che è il peperone. E' una tipica piatta di persone che lavorano nella terra, che hanno fatto in una pancia due fangere extravergine di oliva, e lasciano tutti i vegetali friare. E, almeno, i piatti vengono e tutti i vegetali sono vicini ad un povero. alcuni bacchiuse sono un povero per dire che sono un povero insieme. Quindi, perciò si chiamano bacchiuse. Quindi, devo provare queste piatti. Dovevo assaggiare questo piatto? Non l'ho mai assaggiato? Sì, no. In Calabria lo trovi facilmente, sia nelle case, sia nelle trattorie. Ok, lo trovo. ora siamo con Caolos. Caolos 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 2018 Caolos 2018 che è Calabrese, Greconero, Magliocco e Splash di Cabernet Sauvignon. Sì, sì. Ok. Che è, ho aspettato, molto un grande vino. È ruby red con riflessione viola. Sì. è potente nel naso. È come una bella pancia. frutta molto intenso, come un pugno gentile nel naso. Entra prepotentemente. Entra con una bella frutta. frutta 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 cassis, plum, frutta 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 raffesca frutta di carri brasilia e che sottotitamente. Quanto tempo fa la frutta matura, ciliegia, cassis e prugna. Ho capito. Quanto fa questo di legno? Questo non fa legno. Niente legno? Niente legno. Non ciliegia, non ciliegia. Solo ciliegia. Ok, solo ciliegia, quindi non ciliegia. Questo è il potere delle grazie. Sì. Ma perché abbiamo... Ci sono delle note di... che ti rimandano al legno. Il legno, delle note pure di... smoke, scusate, ma pare tutte e due... Affumicato. Di affumicato. Sì, no, però non sono note che derivano dal legno. Poi sono nel tratto finale, sono nella parte finale. Sì. Siamo parlando di Francesca. Quindi posso sentire... smoke, wood, note. E questo si tratta da... le grazie, magari la macerazione. forse dalla macerazione è un po' più prolungata. Forse anche... sono i vitigni che in affinamento danno... queste note di affumicato, queste note un po' più speziale. sono le grazie. Quindi si tratta da... le grazie. Le grazie. Le grazie. le grazie. Oh! Il rato viene alla palata. È il nostro 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 nostro. Il nostro 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 nostro. E questo è... è... posso sentire che la tannica è già integrata in il vino, quindi è perfetto. Molto persistente, molto lunga, con le note frutti, e posso provare il sapete di aftertaste. Ho detto la frutta matura che c'era al naso ritorna con le sue note speziate, i tannini sono già ben integrati nel vino, sono ingentiliti, e c'è un finale molto persistente, ed è anche questo, c'è un retrogusto bello sapido, c'è un bel retrogusto sapido, anche questo. Questo è il weekend per Pitta Ampigliata. Eugenio mi ha detto che magari... Batteria Scarica. Ok, magari potremmo dire il vino di meditazione, questo è il vino di meditazione, e si parla con Pitta Ampigliata. Ho detto bene? Sì, Pitta Ampigliata. Pitta Ampigliata, che è tipico del dessert della terra di cosenza. Sì, magari potremmo provare la prossima, Francesca. Quindi Eugenio, tu hai una batteria. Quindi potremmo sapere, le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno ascoltato, qualche parola per descrivere il tuo vino, o magari... il vino che potrebbero spiegare. Se ci puoi dire qualcosa sul tuo vino, qualcosa che possono loro magari vivere nel tuo vino quando lo degusteranno in America. Sì, io spero che assaggiando questi vini, che le persone che provano, bevono questi vini, abbiano attraverso questi vini almeno una vaga idea di che cosa possa essere la Calabria. Cioè, voglio dire, spero che questi vini riescano a suggerire, anche a chi non l'ha mai vista, un'idea della Calabria e quindi delle zone da cui questi vini sono stati prodotti, sono stati fatti. perché penso che i vini, più di ogni altra bevanda, sono bevande territoriali e devono uscire ad esprimere il territorio da cui provengono. E questo sta cambiando fortunatamente nel vino. Sì. erano tutti standardizzati, in quel modo stiamo iniziando a cambiare questo modo. E spero che chi assaggi questi vini si faccia un'idea, una suggestione, un'immagine, una sensazione di quello che è la Calabria, di che cosa è la terra, di che cosa può essere il sud dell'Italia, anche dal punto di vista enologico. E spero che tutti i vini che siano i vini, che siano i vini, che siano i vini, che siano i vini, quindi hanno bisogno di avere in mente la regione, perché i vini, più di altri prodotti, sono molto collegati al territorio. Quindi i vini hanno bisogno di comprendere. Il vino viene dalla Calabria, quindi questo è quello che si tratta. Soprattutto noi stiamo facendo, soprattutto i vini, è solo per lasciare le persone, per il video, i vini, i vini, perché hanno bisogno di toccare, vedere, a me, e per capire perché Francesco e i miei vegani vini, in questo caso, Terra del Gufo Wines. Quindi io penso che quello che Francesco sta cercando di fare, attraverso questi video, far capire alla gente quello, il motivo per cui ha selezionato le cantine, tra cui la tua cantina Eugenio Terra del Gufo. Ok, I don't know if we can… What do you think Francesco? Besides loving your wines? Ever since that first visit, just how you talked about your vineyard, even before we started talking more, I just… I can see… I can feel that… how you're passionate into the winemaking. Besides being in a beautiful area. So thank you for that. Thank you for… for your passion in winemaking and I'm so excited with these new wines. People are going to taste it and they're going to be ordering some more of your wines. Definitely. I wanted to ask… how is… when we last went there in November, you were changing to the big barrels. How is that coming along with the winemaking, like going back to that traditional style? When I was in November, you were changing to the big barrels. How is that coming along with the winemaking, like going back to that traditional style? Yes. Prima di tutto, non so se quando voi siete venuti a novembre avevate già visto che… non mi ricordo se avete visto o no l'Anfora prima di tutto, che ho introdotto… un'Anfora di terracotta. Did we see Anfora? No. I don't think we see… No, no. Non l'abbiamo vista. No. Adesso produrrò il magliocco, diciamo che ho già… che ho già… Iniziato. Sì sì, fatto nel… la vendemmia del 2019, vinificato e affinato in Anfora. In Anfora di terracotta. Do you understand, Francis? No, no. I did. He just… He's producing, the 2019 year, un magliocco in Anfora. Anfora? Aspetta la traduzione… Anfora… non so, in inglese… Anfora, Anfora. In Anfora. So, he's producing magliocco in Anfora. Yes, yes. That's his sum, he's spoiled, no? È un'Anfora da 800 litri. Quindi, insomma, quasi 10 ettolite, 8 ettolite. Esatto. E questa è la prima. Adesso mi stanno arrivando delle… delle botti più grandi. Io non riesco ad avere botti molto grandi. Devo orientarmi, purtroppo, al massimo su fusti di 7… di 700 litri. Però userò come tipo di legno rovere dei Balcani, quindi non rovere francese, rovere di Slavonia, per dare sempre meno caratterizzazione di legno. Questi tipi di botti sono meno invasive e quindi consentono, diciamo, l'affinamento in legno con i vantaggi che l'affinamento in legno dà, ma sono sicuramente meno invasive del rovere francese o americano e comunque delle barricche da 225 o anche da 500 ettoliti. Già sui 700 ettoliti abbiamo una dimensione, non dico da botte grande, ma da botte medie. Ok, ha detto che la prima cosa sarà produzione Magliocco in Amfora. quindi questa è la prima informazione. La seconda è cambiata con il barro in sloveno barro, l'oc barro, e chiusi sloveno perché non ci passi per il vino molte aromasi o tassi. E questo è quello che chiusi sloveno. In questo processo è ancora possibile, quindi non posso fare più cose. Ok, è una altra conversazione. Sì. E' una delle cose che mi piace sull'arrivo, che stai sempre apprendendo qualcosa nuovo. E mi piace che abbiamo fatto direttamente da l'arrivo, da l'arrivo, da l'arrivo. E' molto importante. Grazie per il tuo tempo, Ingenio. Capito, Eugenio, che ti ha detto? Più o meno. Ha detto che è bello che ogni viaggio, ogni chiacchierata, ogni cosa, ogni volta che ci si incontra si impara sempre qualcosa di nuovo, di differente, rispetto all'occasione precedente. E ti ringrazio tanto per il tempo che hai dedicato a questo video. solo io che ringrazio Francesco per l'opportunità. Solo io che ringrazio Francesco per l'opportunità. Spero di dire grazie per l'opportunità. E io dico grazie per l'opportunità per provare il vino e per prendere un video a Francesco. Grazie anche a te. Sì, è stato un piacere divertente. Grazie. Per me è un piacere. Sì, dovremmo farlo ancora in breve. Ok. Grazie a tutti. Sì, e siamo iniziati a postare questo. Quindi, se qualcuno ha delle domande, per favore di commentarlo. E, sai, facciamo questo in breve. Ok. Ok, ok. Grazie tanto. Ciao. Ciao. Ciao, salute. Grazie a voi. Grazie Eugenio. Grazie Francesco. Ciao. Grazie.